Cari amici ben ritrovati, siamo giunti alla quarta domenica di avvento, cioè l'ultima prima dell'arrivo del Natale, del ricordo del Natale di Gesù. Questa quarta domenica è dedicata a Maria, la madre di Gesù. Siamo orientati dalla liturgia a meditare sull'attesa che Maria ha fatto del suo bambino, o con più precisione, il cammino di fede che Maria ha fatto aspettando il bambino Gesù. La gravidanza di Maria ha il suo sviluppo naturale fino al parto del bambino, ma c'è un'interiorità di Maria che è molto importante ed è un cammino di fede. L'episodio centrale che la liturgia ci presenta oggi è la visita che Maria ha fatto alla sua cugina, di lei molto più anziana, la cugina Elisabetta, la moglie del sacerdote del Tempio Zaccaria. E questa andata di Maria da Zaccaria come è interpretata? Molte volte nella storia è stata interpretata come una tenerezza di Maria che vuole rendersi utile verso una donna anziana che vive la sua prima gravidanza molto molto avanti negli anni e quindi ha bisogno di aiuto, di sostegno, forse di consolazione, non lo so. Ma questo motivo, che non è da escludere, non è il principale. Il motivo per cui Maria va a visitare Elisabetta è una risposta a una indicazione che l'angelo le ha dato. L'angelo, quando ha indicato che Gesù sarebbe nato virginalmente, per aiutare Maria a credere, le ha mostrato un'altra nascita prodigiosa, non così prodigiosa come una nascita virginale, ma una nascita straordinaria di un bambino che viene al mondo da genitori vecchissimi, quando apparentemente la madre non era più in grado di generare. Maria è stata chiamata a essere la madre del Messia, ma quando ha cominciato a indicare una sua disponibilità a essere la madre del Messia, la sorpresa è stata che questa maternità di Maria sarebbe avvenuta nella virginità. Questo è qualcosa di assolutamente inaudito. Maria, di fronte alla proposta di essere la madre del figlio di Davide, del Messia, dice come sarà questo, come accadrà questo? E l'angelo le ha risposto Spirito Santo verrà su di te, ti coprirà con la sua ombra la potenza dell'Altissimo. E poi per aiutarla ha continuato dicendole vedi Elisabetta tuo parente, ha concepito anche lei un bimbo nella sua vecchiaia, lei che tutti dicevano sterile, nulla è impossibile a Dio. Ecco, di fronte a questa affermazione Maria dà la sua piena disponibilità, dice all'angelo avvenga di me secondo la tua parola. La visitazione si lega proprio a questo, appena l'angelo è partito, subito Maria si mette in cammino e per andare a vedere la cugina Elisabetta, per avere il segno che davvero queste cose che l'angelo prometteva erano reali. Dunque è in questo che noi possiamo vedere il cammino di fede di Maria. Infatti, quando Maria arriva nella casa di Elisabetta, sente che Elisabetta dice a cosa debbo che la madre del mio Signore venga a me. Lei, Maria, sapeva già dell'angelo della gravidanza di Elisabetta, ma Elisabetta non sapeva niente di Maria. Quando dice a che debbo che la madre del mio Signore venga a me, benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Maria viene a sapere che davvero la gravidanza è cominciata, davvero quello che le ha detto l'angelo non è un'illusione, davvero è cominciato un cammino in cui Maria sarà la grande protagonista della nascita del suo figlio che è il personaggio decisivo della salvezza. Dunque, e come vediamo bene, se ragioniamo così, vediamo che qui c'è un cammino di fede di Maria. Vorrei allora, cari amici, aggiungere una considerazione importante. Il cammino di fede di Maria è sostenuto dallo Spirito Santo che è presente nei fratelli. Noi siamo molto abituati a vedere lo Spirito Santo presente nel fatto che Maria abbia concepito virginalmente il bambino, cioè senza nessun contributo maschile. Certamente, come diciamo nel credo, fu concepito per opera di Spirito Santo, ma il racconto della visitazione di Maria ci fa vedere che lo Spirito Santo è intervenuto anche per sostenere il cammino di Maria attraverso dei profeti. E chi sono questi profeti? Il racconto di Luca ne comporta tre. Il primo profeta è il bambino nel grembo di Elisabetta. Quando sente l'arrivo di Maria il bambino non è ancora completamente formato, è un bambino che è di sei mesi ancora, sei, sette mesi al massimo, e sente la presenza di Gesù, la presenza di Maria e fa un balzo nel grembo di Maria. Luca lo dice molto chiaramente, fu pieno di Spirito Santo. Al balzo del bambino anche Elisabetta diventa piena di Spirito Santo ed esclama a gran voce benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. Ci accorgiamo allora che Maria che è in ascolto di questi avvenimenti è aiutata da questi profeti. Il Signore agisce in noi attraverso lo Spirito che ci dona in diversa misura ma agisce in noi anche attraverso lo Spirito che dà a tanti che camminano a fianco a noi, che ci parlano, che ci spiegano tante cose, ci parlano anche di noi, ci parlano del Signore, ci dicono di noi. Maria è stata annunciata dall'angelo ma è stata per così dire istruita da Elisabetta. Se andiamo avanti di qualche riga nel racconto di Luca troviamo anche che il padre di Giovanni Battista e il marito di Elisabetta anche lui dà un apporto profetico. Quando nasce il bambino lui che era rimasto muto per la sua incredulità si scioglie nel parlare fu pieno di Spirito Santo dice Luca e profetò dicendo benedetto il Signore Dio di Israele che ha visitato e redento il suo popolo. Penso che questi pensieri ci aiutino ad avere una visione molto vera delle cose. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo abbiamo bisogno degli altri abbiamo bisogno che Dio ci doni i suoi regali ma abbiamo anche bisogno di essere in una relazione profonda con gli altri ascoltandoli ascoltando il bene che ci vogliono trasmettere. C'è un ultimo punto sul quale vorrei che ci soffermassimo anche se rapidamente la lettera agli ebrei che è la seconda lettura di oggi contiene una frase che è presa da Gesù in questa frase Gesù dice non hai voluto né sacrificio né offerta un corpo invece mi hai preparato il salmista diceva che tu non gradisci il Signore l'offerta del corpo degli animali delle vittime che vengono sacrificate hai dato a me un corpo hai dato a me un cammino ed è attraverso questo corpo che io ti posso lodare se andiamo al corpo di Gesù io direi così il corpo di Gesù è preparato nel grembo della Vergine Maria verginalmente Maria ha concepito il bambino e lo ha intessuto nel suo grembo ma il bambino è stato preparato anche non solo dai procedimenti fisiologici per cui nasce il bambino dal grembo di Maria ma è preparato anche dall'ascolto e dall'obbedienza di Maria il bambino che è portato verso Elisabetta nella casa di Zaccaria io penso che sia molto interessante pensare questo il corpo che Gesù riceve è il corpo tessuto nel grembo di Maria ma è anche un corpo tessuto dall'esperienza di fede di Maria dalla sua obbedienza mi permetto di prendere un'immagine molto forte che già i padri della Chiesa avevano elaborato per esempio Sant'Ambrogio di Milano dicevano Maria concepisce più che col grembo con l'orecchio che ascolta certamente c'è l'apporto della madre che forma il bambino nel suo grembo ma Maria ha dato anche forma a Gesù attraverso l'ascolto il cammino di fede che lei per prima ha fatto è per questo che è nostra madre nella fede non solo perché è la madre di Gesù ma perché è stata capace di camminare come noi dobbiamo camminare quale augurio farci cari amici nell'imminenza del Natale ho pensato un augurio spero non troppo sofisticato l'augurio di una generatività virginale come quella di Maria generatività vuol dire essere capaci di fare qualcosa generatività virginale e io la intendo così chiediamo al Signore il dono di dare ai nostri amici non solo il meglio delle nostre forze umane ma quello che ci viene dato dalla grazia del Vangelo ognuno di noi ha dei doni di intelligenza di forza di cortesia ma io penso che ciascuno di noi porta anche dei doni che ci vengono dall'ascolto del Vangelo quel di più di mettezza di mansuettudine di generosità che la parola di Dio può creare in noi quando ascoltiamo sono proprio vicini i giorni del Natale abbiamo qualche tempo in più per pensare anche per dedicarci a noi stessi ma non dedichiamoci noi stessi a noi stessi in solitudine o semplicemente guardando delle cose interessanti esterne film cose di questo genere ma concediamoci anche momenti di silenzio momenti in cui ascoltiamo il Vangelo e l'augurio cioè mio per me e per voi è che i profeti illuminino la nostra strada come Maria ha ascoltato Elisabetta e il bambino che si agitava in Elisabetta così cerchiamo di fare noi rispetto al Vangelo ascoltiamolo avremo in questo senso una maternità virginale una maternità che non viene soltanto dalle nostre forze umane ma da quello che il Signore nella sua geniale intelligenza di grazia vuole offrire a ciascuno di noi grazie un cordialissimo augurio di Buon Natale e anche il mio grazie per aver ascoltato con amabilità grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti